Numero 69, mezzo lì, a disposizione di rinnovare il tempo avviso, Rodriguez, di Cesaro, di Dio Cisgrigna, 17, 26, diciamo di stasso mezzo, 20, 26, 24, Sassone, 12, Agostini, con il quattro e tre brighi, 77, per l'articolo, 186, via tutti. Numero 69, via tutti. numero 11 numero 12 numero 15 numero 19 numero 21 numero 24 numero 26 a disposizione numero 30 due russi 7 pepe 27 pezzi 23 vitale con il numero 33 numero 39 dei ferri campioni d'Italia per la voce e forza di un uomo a a a a a a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.